Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, sarebbe stato un ictus a stroncare la vita del 26enne ritrovato morto nei giardini del Porcinai. A chiarire gli ultimi dubbi sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sarebbe stato un malore a stroncare il 26enne trovato senza vita alle prime luci dell'alba di venerdì accanto ad una panchina nei giardini del Porcinai a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Le telecamere di videosorveglianza della zona hanno infatti ripreso quei drammatici attimi. Il giovane che arriva a piedi verso le 6.30, poi si siede, usa il cellulare e poco dopo si accascia e perde sensi. Dalle indagini non sarebbero immersi collegamenti con l'uso di sostanze stupefacenti, né sul corpo sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sul posto, dopo l'allarme lanciato da un passante, sono intervenuti sanitari e polizia di Stato. Subito è stata avviata un'indagine ed è stato disposto un accertamento medico-legale sul corpo, che ha confermato la morte naturale, potrebbe trattarsi di un ictus. Il giovane tunisino, noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora, trascorreva le sue notti arraggiandosi in luoghi diversi. Sulla panchina, accanto alla quale è stato ritrovato il corpo senza vita, amici e conoscenti del 26enne hanno deposto fiori e messaggi. E adesso torniamo invece a parlare della protesta dell'allevatore di Ponticino, che qualche giorno fa aveva scaricato una carcassa di una pecora in piazza Guido Monaco. Adesso è stato denunciato. È stato denunciato l'allevatore di Ponticino che per protesta aveva scaricato la carcassa di una pecora, uccisa da un lupo in mezzo alla strada nella centralissima piazza Guido Monaco. Questi sono lupi, quelli che a me mi portano via al futuro. Fategli le foto, le devono vedere tutte. Il 28enne aveva deciso di accendere i riflettori sul tema con un gesto eclatante dopo gli attacchi subiti dal suo gregge. Perché c'è differenza tra vederla dietro uno schermo e vederla dal vivo? Perché era sbragata, era distrutta, era mangiata completamente. Ad agosto 17 le pecore uccise, poi ad inizio settimana l'ultimo attacco in ordine di tempo. Il problema è che non ha più paura, non ha più paura. Cioè questo che a me mi fa, mi mette l'angoscia, che questo non ha più paura. Cioè è talmente abituato alle persone, ai rumori. Poi, oh, c'è l'autostrada, la vedete qui dall'autostrada, è attaccata, è abituata a tutto. Questo non ha paura di niente, cioè prima il lupo stava a montagna, ora il lupo sta dentro il paese. Esasperato aveva caricato la carcassa in auto e si era diretto verso il centro di Arezzo per l'azione dimostrativa. Userò qualsiasi mezzo possibile, immaginabile, per creare protesta e disagio in qualsiasi posto. Ma non dove non c'è nessuno, dove la gente c'è. Adesso però è scattata la denuncia, in osservanza dei provvedimenti dell'autorità, il reato contestato dalla polizia municipale. L'allevatore avrebbe dovuto, infatti, riprendere la carcassa della pecora, che invece è stata smaltita da sei toscana. Peggiora il tempo in tutta la Toscana. La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valida su tutta la regione. L'allerta parte dalle 6 di domani, domenica 10 marzo, sino alla mezzanotte. Previste piogge in estensione dalla costa al resto della regione nel corso della notte. Prevista anche la neve sulla Pennino, oltre 1.600-1.700 metri. I fiocchi bianchi raggiungeranno le vette, oltre 1.400-1.500 metri nel pomeriggio. Ed è ancora allarme, i bocconi killer ad Arezzo. Sono infatti arrivate nuove segnalazioni dalla zona di Salleo. Ho fatto dei bocconi avvelenati tra l'altalena e la casottina, quella lì grigia. Circa un mesetto fa credo anche nell'area Canigiu. Noi siamo veramente preoccupati, abbiamo paura. Ecco, loro mi rimangono sempre corti con il guinsaglio. Polpette di carne ripiene di viti e chiodi che, se ingerite dal cane, potrebbero rivelarsi fatali. Torna così ad Arezzo l'allarme bocconi killer, l'ultima segnalazione da un parco di Salleo. Fortuna non risulterebbero animali in pericolo, ma è comunque scattata la bonifica. Ci ha contattato il comune, un intervento urgente per controllare proprio questo parco e bonificare se troviamo qualcosa. Obiettivo del sopralluogo, quello di verificare che in zona non fossero stati lasciati altri bocconi killer. Abbiamo trovato un uovo con dentro una sostanza sconosciuta. Un gesto pericoloso per gli amici a quattro zampe, ma anche per i più piccoli. Comunque è un parco dove giochi, dove ci sono anche i bimbi, insomma non è una bella situazione. Oltre che la bonifica facciamo anche prevenzione, ci facciamo vedere sulle zone dove sono stati segnalati questi bocconi in modo che dà un po' da prevenire e un po' da fare da repellente per queste problematiche. Sono in corso anche le indagini e la ricerca dei responsabili di quello che a tutti gli effetti è un grave reato, punito dunque dal codice penale. Cioè uccidere un cane o un gatto che sia un essere, uccidere sempre un essere vivente. È in programma mercoledì 13 marzo nella Sala dei Grandi una cerimonia per celebrare 40 anni dal conferimento della medaglia d'oro al valore militare della provincia di Arezzo. Una commemorazione promossa dall'Istituto Nostro Azzurro in collaborazione con l'amministrazione provinciale e il patrocinio della Regione Toscana che riunirà i rappresentanti delle autorità civili, militari, religiose oltre agli studenti di diversi comuni. Ed una dirigente invece della CGL Aretina è al vertice del Comitato IMSS della Toscana. Il Ministro del Lavoro ha firmato il decreto con il quale è stato riconosciuto il Comitato regionale IMSS e nel corso della seduta di insediamento Marco Rossi è stato eletto presidente. Rossi è attualmente responsabile CGL della zona del Casentino e membro della segreteria provinciale. Ha una trentennale esperienza con ruoli dirigenziali e in CGL nelle federazioni di categoria. Voltiamo pagina. A D'Arezzo per la prima volta le quattro associazioni che raggruppano i familiari di persone autistiche con disabilità intellettive e retine si sono riunite per promuovere un incontro con Davide Faraone, presidente della Fondazione Italiana Autismo e padre di Sara, giovane ragazza autistica. Faraone poi è stato presente anche alla cena degli iscritti di Italia Viva per parlare del programma politico del partito di Matteo Renzi. Cena degli iscritti e dei simpatizzanti di Italia Viva Arezzo, ospite all'hotel Etrusco, l'onorevole Davide Faraone, capogruppo alla Camera dei Deputati di Italia Viva. Nel corso della serata sono stati toccati i punti cardine del programma politico del partito di Matteo Renzi. Sì, abbiamo parlato di direzione europea, di come ci organizzeremo, di come costruiremo le condizioni per superare uno sbarramento che è assolutamente alla nostra portata, basta organizzarsi. E quindi queste tre giorni all'opolda che faremo saranno tre giorni di lancio per una straordinaria e entusiasmante campagna elettorale. Il progetto del terzo polo sembra un lontano ricordo dopo la rottura tra Renzi e Calenda. Normalmente si mira ad addebitare le responsabilità a tutti distribuendole anche equamente, ma tutti vedono che l'unica responsabilità, affinché non si faccia questa lista dei riformisti in Europa, di Renu Europe, è tutta la debitare a Calenda. Noi abbiamo manifestato sempre la volontà di andare uniti alle elezioni, così ha fatto più Europa e ci si è scontrate contro i vetri di Calenda immotivati e insensati. Ne prendiamo atto e andiamo avanti da soli. È un centro-sinistra che in questo momento vede insieme tante anime politiche, spesso con una visione contrapposta su temi importanti e particolarmente delicati. Diciamo che si fa riferimento a centro-sinistra, a campo largo, tenendo insieme forze politiche che insieme non possono stare perché non hanno gli stessi programmi politici. Se pensate alla politica estera, alla politica economica, super bonus, reddito di cittadinanza, noi abbiamo fatto il 4.0, abbiamo fatto il Jobs Act, che sono in antitesi a quei modelli. Per cui io mi entusiasmerei un po' di più per un centro-sinistra riformista che abbia le idee riformiste, che sia di stampo bleireano, che sia ispirato al modello del governo Renzi. Sinceramente un'idea di una sinistra populista che fa dell'assistenzialismo il significato della sua politica, Sinceramente non la reputo un'organizzazione di centro-sinistra, ma semplicemente populista. Il dialogo tra il partito di Renzi e il partito democratico è spesso problematico. Un esempio lampante è rappresentato dalla campagna elettorale di Firenze in vista del rinnovo del Consiglio Comunale. Italia Viva ha dato disponibilità a fare le primarie, ha dato disponibilità a proseguire un percorso con la stessa coalizione che ha amministrato Firenze in questi anni. Mi sembra che dall'altro lato invece ci sia stata la voglia di prevaricare, di imporre un candidato, di imporre una modalità di selezione della candidatura. Anche sui programmi mi sembra che vi sia una deriva che va in direzione opposta a quella che ha ispirato l'amministrazione Renzi e in grossa parte anche l'amministrazione Nardella. Per cui anche lì le differenze sono nei metodi e nel merito. Se si riusciranno a trovare soluzioni, bene, altrimenti anche lì non ci presenteremo la soglia. Alle prossime elezioni europee per Italia Viva la soglia del 4% è il risultato essenziale da raggiungere per essere presenti al Parlamento europeo. Sì, quello è il minimo, nel senso che la legge impone questo sbarramento del modo per essere rappresentati in Europa. E tra l'altro la presenza del gruppo di Renew Europe in Europa può essere determinante per evitare che sovranisti e popolisti abbiano meglio. Poi naturalmente è un lavoro che andrà fatto, nel senso che non è scontato il risultato, però io sono molto ottimista che attorno a Matteo Renzi, attorno a Italia Viva, si possano aggregare altre forze politiche, soprattutto cittadini che credono nel riformismo e che non sono minimamente appassionati né dai sovranisti né dai populisti. C'è uno spazio politico che occupiamo noi, quindi i cittadini possono scegliere questa forza politica, c'è il sistema proporzionale, quindi possiamo puntare su di noi senza aggregare coalizioni o altro, quello sarà un tema più delle politiche e quindi in maniera decisa e determinata, partendo da Leopolda, avviamo questo percorso con grande fiducia. Ancora politica, un vero e proprio terremoto ha scosso nelle ultime 48 ore il comune di Subbiano. Prima l'assessora Dominga Guerri, poi il presidente del Consiglio Luca Bianchi hanno lasciato i loro incarichi, consegnando lettere di dimissioni in cui la decisione viene definita irrevocabile. Guerri è entrata nella giunta nell'estate del luglio 2022, Bianchi invece presidente del Consiglio Comunale, era nella lista civica insieme per Subbiano e aveva sostenuto la sindaca Mattesini. Un colpo di scena nella giunta che arriva proprio mentre le elezioni sono alle porte. E adesso cambiamo argomento per parlare di salute. Dal 10 al 16 marzo si celebra anche a Tarezzo la settimana mondiale del glaucoma con visite gratuite. Vediamo. Tutti gli anni, in questo periodo di marzo, viene fatta la settimana del glaucoma. Questo è per richiamare l'attenzione dei cittadini su questa patologia così insidiosa. Insidiosa perché il paziente non si accorge, non ha sintomatologia. O quando ha sintomatologia purtroppo è troppo tardi e il danno si è restaurato. È definito il ladro silente della vista perché spesso non dà sintomi. Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa che colpisce il nervo ottico. Interessa circa il 2% della popolazione e se non diagnosticate trattata in tempo può portare alla cecità. Il glaucoma è considerata la pressione alta dell'occhio. Quindi una pressione non adeguata, una pressione che va oltre la norma e quindi va studiata la situazione per vedere quale terapia estaurare. Purtroppo non c'è solo il glaucoma ma spesso questi pazienti, questi soggetti hanno una pluripatologia. Dal 10 al 16 marzo si celebra la settimana mondiale del glaucoma. L'Asla Toscana Sud-Est ha aderito all'iniziativa mettendo a disposizione delle persone interessate la possibilità in tutte e tre le province di sottoporsi a visite gratuite. La parola chiave è prevenzione, quindi i nostri ambulatori sono aperti per fare una visita completa sull'ambito di tutta l'azienda, sull'Asla Sud-Est, basta telefonare al CUPTEL per prenotare una visita completa e le terapie ci sono, quindi si tratta di colliri, di laser, eventualmente se è proprio necessario di interventi, l'importante è arrivare presto. L'iniziativa si rivolge a soggetti sopra i 40 anni di età che non sono in terapia e non hanno fatto visite oculistiche negli ultimi due anni. Torna a questo fine settimana il Mercato delle Pulci di Arezzo. L'appuntamento all'Arezzo Fiere Congress in via Spallanzani. Il Mercato delle Pulci è il più grande evento dell'usato di privati del centro Italia, una manifestazione che promuove condivisione e integrazione improntata al consumo consapevole e alla sostenibilità. Saranno circa 600 i banchi al chiuso negli spazi dell'Arezzo Fiere Congressi. Ieri era la giornata internazionale dei diritti delle donne alla Valdichiana Village che si impegna per promuovere consapevolezza e cambiamento. In esposizione un'opera monumentale di Anna Izzo dal titolo La violenza è una gabbia. Delle gigantesche scarpe rosse racchiuse all'interno di una gabbia, è proprio una gabbia la violenza contro le donne. Questo è il messaggio forte che parte dal Valdichiana Village grazie a questa installazione. Le donne vivono un isolamento che le rende sempre più fragili, più deboli. E invece la comunicazione è la vera forza in questa cosa. Uno, le donne, devono smettere, smettere, lo ripeto, di fare le crocerossine, di voler salvare il mondo. Se noi siamo bene, se ci rispettiamo, se ci amiamo, salveremo davvero il mondo. E poi non è più accettabile, è impossibile, 120 donne uccise in un anno. È una mattanza. Come ci si può abituare a questa cosa? Per me è insopportabile e questa scultura è un grido, ma è un grido di vita, non è una scultura, è un grido di tristezza, è un grido di lotta. Aprite questa gabbia, volate, uscite, lasciate la guzzino in gabbia, non date assolutamente mediazione di niente. Solo così possiamo liberarci di questa tragedia, perché è diventata una tragedia. La pandemia ci ha messo di fronte al fatto che, dal punto di vista soprattutto economico e di riconoscimento verso le donne, abbiamo fatto passi indietro. Sicuramente, anche perché si dà per scontato, non si capisce per quale cliché forse antico, per cui la donna è dedicata fondamentalmente alla cura. Che sì, può essere una sua predisposizione naturale, ma non può essere esclusiva. Che sia una scelta, ribadisco per l'ennesima volta, che qualsiasi che fosse la scelta deve essere libera. E per essere libera è necessario che sia paritaria, cosa che oggi come oggi non è. Tanto per citare una cosa, anche nelle pubbliche amministrazioni non si capisce perché la maggioranza delle donne sono impiegate, ma laureate, ma i dirigenti non è così. Uno degli aspetti meno conosciuti della violenza contro le donne è la cosiddetta violenza economica e anche su questo le istituzioni si stanno muovendo. La regione toscana è una regione che investe molto sulle politiche contro la violenza sulle donne. I finanziamenti per i centri antiviolenza, per le case rifugio, per le case di accoglienza, sono ogni anno in crescita. Abbiamo messo a disposizione delle risorse per il reddito di libertà, dei finanziamenti da dare alle aziende che assumono donne che hanno vissuto questo dramma. Mi viene in mente l'indirizzo fittizio quando sono nelle case rifugio per ricevere la corrispondenza, perché volendo si trova anche i recapiti. Oltre a tutte tante azioni che vanno nella sensibilizzazione, il numero 1522, cerchiamo di scriverlo ovunque, nelle tramvie, nei bus, la grande distribuzione ci viene dietro in questa sensibilizzazione. Dobbiamo assolutamente non smettere mai di abbassare la guarda. Ogni piccola azione, ogni piccolo tassello è importante per comporre la rete della prevenzione e della tutela. Ed è a Retino il primo comune in Italia, l'Oro Ciuffenna, ad aver ottenuto la certificazione per parità di genere. Gli antilocali possono essere di esempio per la comunità, per la società, che si può stare bene al lavoro, fare in modo che donne e uomini abbiano la stessa carriera e abbiano la possibilità anche di bilanciare la vita lavorativa, la vita sociale e la vita familiare. È un messaggio importantissimo. E se viene da un comune, tra l'altro, relativamente piccolo, delle aree interne, è ancora più importante, perché i comuni della Toscana sono comuni dove la qualità della vita è migliore, soprattutto di quelli più piccoli, in questo caso anche la qualità del lavoro. Quindi ci si sta bene e ci si può lavorare anche bene, donne e uomini, allo stesso modo. In occasione dell'8 marzo, alla Teatro Petrarca, invece, uno spettacolo gratuito organizzato dall'assessorato alle pari opportunità, che ha registrato il tutto esaurito. Al Petrarca, un omaggio a tutta la cittadinanza per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle donne. È dall'inizio del mandato che mettiamo in campo iniziative di sensibilizzazione, di educazione, di formazione, rivolte a tutta la cittadinanza e in particolar modo ai giovani, perché sono loro gli adulti di domani, le donne e uomini di domani. Sul palco del Teatro Cittadino, l'esibizione del trio di cantanti liriche appassionante. Formazione artistica femminile che ha interpretato un vasto repertorio di aree e di opere liriche, canzoni italiane d'autore, successi pop rock internazionali e un brano originale scritto per denunciare la violenza contro le donne e lanciare un messaggio di speranza. Un viaggio lunghissimo attraverso la musica lirica, attraverso le canzoni d'autori internazionali e nazionali, attraverso la musica pop rock e ci sarà anche una sorpresa che il nostro brano ora vedo, ora sento e ora parlo. Noi siamo felicissime di essere qui stasera proprio per l'8 marzo, è una data per noi fondamentale. Noi portiamo avanti tanti progetti a favore dei diritti sulle donne, dei diritti delle donne e dei diritti di genere. Siamo appena tornate dall'Arabia Saudita, quindi parliamo di realtà molto diverse dalle nostre, però con la nostra musica cerchiamo di portare dei messaggi sempre importanti, soprattutto messaggi di libertà. Torna in a città il generale Roberto Vannacci che recentemente ha ricevuto la sospensione disciplinare dall'impiego per 11 mesi per rappresentare il nuovo libro in anteprima regionale Il Coraggio vince dopo le tante polemiche per l'altro suo libro Il Mondo al Contrario. L'appuntamento organizzato dall'Associazione Cultura Nazionale è in calendario per il prossimo 27 marzo. Il 14 marzo invece la prima personale di Marco Cerofolini, fotografo di Quaranta, che ha sperimentato la sua passione per la fotografia, passaggiando per il paese con la sua sedia e rotelle. Un punto di vista alternativo in esposizione alla Caverna delle Torture in via Buonconte da Montefeltro ad Arezzo. E adesso la pagina dello sport, impegno casalingo per Giamaranto, che domani al Comunale riceveranno la Bissa Pesalo che con 33 punti occupano la 14esima posizione. In panchina dall'aprile scorso siede Simone Banchieri. Sentiamo le parole del DG Amaranto, Paolo Giovannini. Le cinque gare interne sappiamo quanto benissimo sia di supporto ad Arezzo la curva, sappiamo benissimo quanto ci tengono i ragazzi a vincere e andare a esultare sotto la curva a fine gara e quindi cinque partite in casa su otto potrebbero rappresentare un piccolo vantaggio per noi. E poi c'è queste tre trasferte che per una ragione o per l'altra hanno a tutti una valenza importantissima. Una perché Pineto comunque sia un punto da noi, anche loro sono desiderosi a 37 punti, credo di voler raggiungere un posto nel playoff. Lucca è sempre un derby, anche loro a 36 non sono assolutamente tagliati fuori dalle prime dieci posizioni. E poi l'ultima, la trasferta di Perugia, che si sa quanto è importante per le due città, per le due realtà, per i nostri tifosi. Quindi per un motivo o per un altro sono veramente un rush finale che sono contento di disputarlo e che mi aspettavo un pochino tra le righe che si potesse arrivare nonostante la sconfitta di Gubbio, che si arrivasse a otto giornate dalla fine in zona playoff e con la possibilità di centrare non solo il minimo obiettivo che era quello della salvezza, ma quello di farlo magari in maniera tranquilla e perché no andare magari a farci qualche partita di playoff. È normale che la squadra è stata costruita sin dall'inizio con un budget non da primissime posizioni, non è per prendere i meriti o per valorizzare il lavoro mio e di Nello, ma comunque sì abbiamo portato in squadra ben 14 debuttanti in categoria, tanti vengano da aver vinto un campionato, molti sono giovani, abbiamo quasi sempre giocato col minutaggio, quindi facendo giocare 4 o 5 ragazzi perché inevitabilmente ne abbiamo in rosa così tanti, non per una questione economica, però il Presidente ha fatto tanti investimenti da un punto di vista infratturale, ha saldato tanti debiti del passato, quindi arrivare in fondo, disputare i playoff e aver azzerato i debiti vorrebbe dire aver messo un ulteriore mattoncino per una programmazione che mi sento di fare, che mi sento di promettere o di garantire, ma che secondo delle linee guida che avevo tracciato con il Presidente due anni fa mi sento in questo momento di aver rispettato e perché no, speriamo nel medio periodo di tornare anche noi in quella categoria che l'Arezzo ha fatto per nove anni. Non vedo nessun giocatore con la pancia piena e tutti credo che siano desiderosi di una riconferma qua ad Arezzo e quindi questo minutaggio un po' alternato fa sì che non si arrivi con giocatori che abbiano disputato 28-29 giocatori e con il rischio che qualcuno abbia la pancia piena perché abbiamo raggiunto la salvezza o come si dice in alcuni casi abbia finito la benzina perché hanno giocato sempre i soliti, quindi mi auguro che questo rappresenti un vantaggio, poi le rotazioni che siano giuste o che siano sbagliate negli omini o negli interpreti non tutti si può essere sempre d'accordo, però questo fatto di aver gestito le forze e che qualcuno, faccia degli esempi un po' così tanto per far capire meglio il concetto, io credo che i Damiani, i Gaddini, i Chiosa abbiano fatto un minutaggio che li permetta ancora di dire tanto in questa stagione. Sono otto partite, sono poche ma sono ancora tante per poter dimostrare il proprio valore e comunque per tirar fuori quello che hai dentro e secondo me questi ragazzi hanno ancora tanto dentro da dare e credo che vogliano arrivare più in alto possibile, poi dobbiamo mettere in conto che la domenica si vince e si perde ma quello che conta è l'obiettivo finale, non mi sono mai sognato di avere una struttura, un impianto di gioco o di base o di squadra come Gubbio, Carraresi e squadre che ci precedano perché vengano da stagioni molto più importanti delle nostre, noi veniamo da un campionato di serie D dove abbiamo deciso di promuovere tanti giovani, stiamo raccogliendo i frutti perché insomma il rifiuto della richiesta di Pattarello, gli occhi addosso sui vari Damiani, i Gaddini, insomma stiamo facendo un lavoro tracciato, un sentiero che non può assolutamente permetterci di essere competitivi subito in questa stagione perché poi naturalmente questo percorso va accompagnato e viene spesso accompagnato da inesperienza e anche dalla conoscenza della categoria perché sì, l'Arezzo la conosce benissimo però non ci dimentichiamo che viene da una retrocessione da due anni di serie D quindi c'era da ricominciare a riprogrammare ma sono convinto che nel medio periodo riusciremo a toglierci delle grandi soddisfazioni. Adesso il calcio femminile, domenica 10 marzo le Amaranto scendono in campo allo stadio Moreno-Gubbiotti contro il Narni. Sarà la prima volta in pacchina della nuova allenatrice Ilaria Leoni dopo la risoluzione del contratto con Mr. Mike. Sentiamola. Le sensazioni sono stupende e bellissime, le ragazze si sono messe subito in mostra hanno dato tutte il 100% di loro stesse, io sono contentissima del primo allenamento e vedremo cosa fare domenica. Questo gruppo squadra sicuramente ha margini di miglioramento enormi, come dico sempre alle mie ex ragazze ogni giorno c'è una sticella da alzare e quindi un miglioramento da fare e questo gruppo ogni giorno dovrà migliorarsi e combattere partita dove partita per cercare di fare più punti possibili. Prima sfida fuori casa per l'AMBC Servizi Arezzo della seconda fase. Dopo il successo con Dertona i Amaranto sono infatti attesi dalla lunga trasferta di Borgo Manero. Archiviata la vittoria a Casalinga con la Gulliver Dertona, l'AMBC Servizi Arezzo sarà impegnata domenica 10 marzo alle 18 sul campo del College Borgo Manero. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della società piemontese. Borgo Manero ha chiuso la prima fase al settimo posto con 22 punti, portandosene dietro 6 per questa seconda fase dove ha esordito con la sconfitta di misura acquarrata sabato scorso. È una delle realtà di basket giovanile attualmente più importanti del panorama cestistico italiano, nonché vice campione d'Italia nella categoria Under-19 eccellenza. Attorno all'esperto Benzoni, capo cannoniere della squadra con 426 punti segnati, ruotano tutti i componenti dell'attuale formazione Under-19 di Borgo Manero, capolista del proprio girone di categoria, tra cui spicca il 2005 Ferrari. Da segnalare nelle fila della formazione di coach di Cerbo poi anche la presenza dell'ex Badriano Bazzan, classe 2006. Per l'AMBC Servizi dunque un importante appuntamento in Piemonte domenica alle 18, quando al Paladon Bosco sarà alzata la palla 2 tra Iamaranto e padroni di casa del CRT Group College Basket Borgo Manero. Questa per la stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie.